Manca meno di un mese al voto Montecchio Maggiore almeno stando al nostro sondaggio social qualche idea comincia ad avercela la performance migliore quella della leghista Milena Cecchietto di misura sopra lo sfidante Sidio Parise ben distanziati appaiati tra loro Maurizio Scalabrin e Gianfranco Trappola per la già sindaca della città castellana unico volto femminile in gara un buon 39,39 per cento di consensi su 264 voti Milena Cecchietto attualmente impegnata in consiglio regionale gode dell'appoggio oltre che del carroccio anche di Fratelli d'Italia Forza Italia e della sua civica Milena Cecchietto sindaco una visione a lungo raggio la sua tra grandi temi come quello dell'ospedale di miglior assetto urbanistico sino all'ascolto della cittadinanza per una Montecchio orgogliosa e pronta a rivendicare un ruolo da protagonista la tallona con un 39,04 per cento il presidente del consorzio di bonifica alta pianura veneta Silvio Parise sostenuto dalle civiche insieme per Montecchio Montecchio democratica civica Silvio Parise 2024 tanti volti giovani una buona parte del centro sinistra tra le fide degli oltre 40 consiglieri che supportano l'unico tra gli sfidanti a non avere mai indossato la fascia tricolore distaccato Gianfranco Trappola fermo al 14,34 per cento dei sì Maurizio Scalabrin chiude un altro ex per lui un magro 12,3 per cento di voti favorevoli 30 su 244 totali Grazie a tutti!